Grazie a tutti. La residenza che vedete oggi, ma le decorazioni, tranne quella con l'esterno strutto fitto, sono tutte del 1895 e seguenti, perché suo padre, che era un mercante di ghiaccio, le regalò quella proprietà della crua prima degli impressionisti. Il senso per i colori era molto diverso, perché i colori dovevano essere preparati, come? Usando le materie prime, quindi minerali.